Benvenuti, mi chiamo Gianluca Guidolin e sono un consulente assicurativo. Quanto spesso hai sentito parlare di franchigia nelle polizze assicurative? E ti sei mai chiesto quale sia il suo reale significato? Sicuramente tante, ma facciamo un po' di chiarezza. La franchigia assicurativa rappresenta la parte del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato, in caso di sinistro. Per esempio, se nella tua copertura assicurativa è presente una franchigia di 500€ e fai un incidente causando danni per 1500€, la somma a carico tuo corrisponde alla franchigia stessa, mentre i restanti 1000€ verranno risarciti dalla compagnia assicurativa. Questo però accade solamente quando l'importo del danno è superiore alla franchigia prestabilita in polizza, mentre in caso contrario la somma sarà totalmente a carico tuo. Attenzione! Non confondiamo però la franchigia con lo scoperto. Infatti, quest'ultimo è espresso in percentuale sulla montare del danno. Quindi, la somma a carico dell'assicurato viene resa nota solo dopo aver quantificato i danni. Facciamo un esempio. Nella tua assicurazione è previsto uno scoperto del 10%. Quindi, in caso di danni dai venti atmosferici per una montare di 1000€, il 10%, ovvero 100€, saranno a carico tuo, mentre i restanti 900€ verranno risarciti dalla compagnia assicurativa. Ma come possiamo usare la franchigia a nostro vantaggio? Essendo la franchigia la parte del danno a carico nostro, più è alta e minore sarà dunque il premio da corrisponde alla compagnia assicurativa. Questo non significa inserire franchigie alte ed insostenibili, ma vuol dire valutare insieme al consulente la montare del danno da tenere a carico tuo e dunque autoassicurarsi. Il consiglio è quello di lasciare a carico della compagnia assicurativa la parte del rischio che in caso di sinistro potrebbe metterti in difficoltà. Per maggiori dettagli sull'argomento puoi trovare un interessante articolo nel mio blog. Grazie dell'attenzione e buona continuazione!